Buongiorno e benvenuti al consueto aggiornamento con le notizie sulle traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Circolazione sostenuta sulle direttrici che conducono i centri urbani per i consueti spostamenti pendolari con l'inizio delle attività lavorative scorastiche quindi per raggiungere gli uffici e le scuole che si potranno fino alle ore 10 e 30. Come di consueto monitoriamo il real time dall'area fiorentina all'altezza di Scandici come vedete sesto fiorentino sulla 11 la Firenze mare abbiamo flussi veicolari intensi in entrambe le carreggiate in particolare in direzione Firenze. L'altro tratto che monitoriamo in area parte enopea sulla tangenziale di Napoli all'altezza di Corso Malta e queste sono le code che si dirigono verso Pozzuoli. Ad ogni modo viabilità condizionata non solo dal traffico intenso ma ad alcuni incidenti in particolare sulla 1 e vi comunico subito che un incidente con coinvolgimento di mezzi pesanti sta generando code al momento di 15 chilometri con il coinvolgimento di mezzo pesante e tra il bivio della 22 la Modena Brand e Reggio Emilia in direzione Milano e al momento ci sono appunto delle criticità proprio per la rimozione di questi mezzi incidentati e sempre sulla 1 non molto distante da questo da questo incidente abbiamo un altro incidente verificatosi tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna che al momento sta generando code per 6 chilometri invece le code che si registrano all'altezza di Parma per i vicoli diretti alla mostra la fiera di Parma sono motivate appunto da questa da una mostra importante l'eccellenza della tecnologia applicata all'industria più grande appuntamento dedicato all'innovazione dell'industria manufatturiera e al momento ci sono code per 2 chilometri proprio allo di Parma sia tra il bivio della 15 sia tra terre di Canossa in direzione Milano in direzione Bologna infine desidero comunicarvi che le code che si registrano sulla 10 sul versante nord ovest sulla 10 genova 20 miglia tra celle Ligure e il chilometro 44 al bivio della 6 in direzione le confie di stato in direzione 20 miglia per 2 chilometri sono motivate da cantieri di lavoro queste al momento le notizie di maggiori devo grazie per l'attenzione ad Alessandra Canali di Rai pubblica utilità guidate con prudenza fate buon viaggio e buon proseguimento con l'informazione di Rai News prossimo aggiornamento alle ore 12 e 25 arrivederci buona giornata grazie a tutti